In questo video andiamo a vedere come puoi creare dei fotomontaggi con pochissimi click senza alcuna competenza tecnica specifica con un output che è incredibile. Lo faremo ovviamente grazie all'intelligenza artificiale. Puoi creare questa tipologia di montaggi sia per divertimento, per intrattenimento, ma anche per comunicazione. Puoi creare delle creatività da utilizzare all'interno dei tuoi social media, creare dei meme, creare delle infografiche divertenti. Questa tipologia di contenuto lavorano sempre molto bene su engagement. In questo periodo in cui sto registrando questo video, per esempio, c'è Sanremo e tutte le aziende stanno utilizzando real-time marketing, quindi un marketing basato su avvenimenti, trend popolari in questo momento e stanno utilizzando, per esempio, la creazione di montaggi dei meme proprio all'interno del proprio piano editoriale e questo lavora molto bene sul coinvolgimento del loro pubblico. Questo è un esempio. Quindi adesso andremo ad utilizzare questa piattaforma con pochissimi click. Andrò a creare due montaggi miei così semplici, ma ci spenderò pochissimo tempo. Voglio soltanto farti vedere come funziona la piattaforma. Io sono Igor Pabo. Su questo canale facciamo diverse cose come questa che facciamo in questo video, quindi creo contenuti, tutorial, contenuti che parlano di digital marketing ma anche intelligenza artificiale, quindi dai un'occhiata e iscriviti al canale magari per consultare questi video, questi contenuti più tardi. Intanto continuiamo qui dentro, andrò a condividerti lo schermo e andrò a farti vedere la piattaforma che utilizzeremo. Oh, innanzitutto la piattaforma che andiamo ad utilizzare è ClipDrop. è una piattaforma di Stability AI che è praticamente la startup dietro a Stable Diffusion, quindi diciamo che l'intelligenza artificiale ne sanno. In realtà la piattaforma è una piattaforma molto più completa rispetto a una semplice stupidata che è quella che faremo, insomma, perché ti permette di fare tantissime altre cose utilizzando appunto il modello di text to image, di Stable Diffusion, di immagini, quindi vedete può sostituire i volti, ma anche sostituire, diciamo, lo sfondo, ridimensionare, c'è anche questa qua che è bellissima perché ti permette di caricare una foto e di creare diverse versioni della stessa foto, migliorare la qualità, diciamo, delle immagini, insomma, date un'occhiata a diversi utilizzi, che sono praticamente questi qua, se noi andiamo su Tools, vedete, ci sono diverse cose che potete fare, è una piattaforma molto leggera ma molto semplice da utilizzare. Quindi andiamo invece su questa funzione qua, che è questa funzione banale, no? Che vi voglio far vedere, che è quella di andare a creare dei fotomontaggi. Allora, come funziona? Innanzitutto per creare un fotomontaggio che sia abbastanza efficace, ovviamente, cercate di non andare, ma questo non vale soltanto per questo tool, ma vale in realtà per tutti i strumenti, anche con Photoshop stesso. Quindi non utilizzate, magari, dei montaggi utilizzando una foto del vostro volto in un contesto che è completamente fuori rispetto al montaggio che state facendo. Cioè, cercate di utilizzare una faccia, no? Una foto che può essere adatta, no? Ad essere montata qui. Ora, io voglio proprio farvi vedere l'efficacia di questo strumento andando a fare la cosa contraria a quella che vi sto dicendo in questo momento. Quindi utilizzando due cose che non c'entrano completamente nulla, no? Per farvi vedere l'effetto che può nascere da questo. Quindi mi vado, praticamente, a fare cosa? A prendere una fotografia del mio buon Rambo e voglio fare un montaggio con la mia faccia qui sopra. E vediamo che cosa nasce fuori. Innanzitutto, quindi, io che cosa faccio? Carico qui dentro la fotografia che voglio andare a lavorare e qui dentro gli vado, praticamente, a sostituire l'immagine, ok? Quindi qua dentro che cosa vado? Gli vado a caricare un mio volto o una mia foto oppure il profilo, insomma, mio in primo piano in modo che sia ancora più efficace. Adesso me lo andrò a caricare. Mi sono scaricato qui da qualche parte una foto che dovrebbe essere questa qua. Me la vado a caricare e vediamo che tipo di effetto mi tira fuori. Tra l'altro questo montaggio lo sto facendo per la prima volta insieme a voi su questa foto specifica e quindi non so che tipo di effetto può tirar fuori perché ovviamente il poster, in questo caso, è molto diverso dal punto di vista proprio grafico. Questo sembra quasi un ritratto, no? Rispetto a una fotografia. È molto più semplice magari fare un montaggio su una fotografia direttamente, no? Questo è normale. Ci mette qualche secondo nel caricamento però questo dipende molto dalla connessione e ve lo fa. E quindi praticamente la foto che io ho caricato è qui e vediamo chi la sta lavorando. Ed ecco qua finito la lavorazione e vedete che inizio potete ritentare qui a fare la modifica però è incredibile perché io gli ho dato ovviamente non proprio un montaggio ideale da fare perché chiaramente i contrasti, i colori di questa foto sono completamente diversi rispetto al poster e quindi anche i capelli stessi, no? È molto difficile fare un adattamento di questo tipo e devo dire non è male. Adesso per voler migliorare andare diciamo a correggere un pochino magari questa pelle così che rimane un pochino più diversa potrei fare una cosa potrei scaricarmi questa fotografia e fare un po' di post-produzione dopo con uno strumento esterno che non so anche Canva direttamente no banalmente oppure direttamente con il vostro strumento del computer o del telefono e quindi che cosa faccio? Mi vado a scaricare la foto e ci andiamo anche a fare un po' di modifiche in Canva proprio velocemente velocemente. Quindi mi apro Canva mi vado a creare un progetto al volo progetto mettiamo tipo volantino verticale andiamo a fare un test veloce c'è connessione proprio quindi che cosa voglio fare? Voglio caricarmi la foto e magari posso voler modificare il poster e modificare anche un pochino la tonalità della foto quindi mi vado a caricare la fotografia che ho scaricato vediamo dove sta dovrebbe essere questa ok perfetto ok ricarico questa foto dopo di che dico ok magari voglio fare un po' di modifiche per quanto riguarda la saturazione posso andare vedete non so per esempio se vado a lavorare sulla tonalità per esempio bene o male andrò ad uniformare sempre di più i colori temperatura magari do una temperatura un pochino più calda perché in questo modo anche la parte qui diventerà più calda luce magari un pochino più scura ombre posso accentuare qualcosina neri ok e posso dare anche una bottarella di saturazione vedete già come è meglio rispetto a prima non è male d'accordo e questo è un modo super veloce per farlo ma ovviamente se volete approfondire andare più in dettaglio vi invito a dare un'occhiata al tool che vi ho fatto vedere fare diversi test ovviamente fare dei montaggi magari con le foto realistiche che con che siano abbastanza coerenti quindi fotografia fotografia non fotografia poster come ho fatto io che è la cosa diciamo più complicata da gestire e quindi fatemi sapere che cosa ve ne pare lasciatemi un like se questo contenuto vi è piaciuto vi è stato utile soprattutto se utilizzerete questo tool per fare i vostri meme e le vostre cose divertenti ci vediamo ci sentiamo alla prossima dagli tutta grazie a tutti